Gucci era un nome dal suono così dolce, così seducente. Avevano tutto. Ricchezza, stile, potere. Chi non ucciderebbe per questo? Signori, lei è Patrizia. Gucci non interessa più a nessuno. Devi aiutare la famiglia. Non preoccuparti, è il mio nome, tesoro. Il nostro nome, tesoro. A Gucci serve nuova linfa. In Gucci, chi decide sono io. Non è un affare per donne. Ricordatelo. È una pazzia, chi si crede di essere. È ora di gettare la spazzatura. Gucci è un animale raro. E bisogna proteggerlo. Proteggerlo da chi? Ma siamo una famiglia. Da chiunque lo minacci. A che gioco stai giocando? Non mi considero una persona con uno spiccato senso morale. No! Ma non sono ipocrita. Mi sembra opportuna una punizione esemplare. Oggi non mi simila. Sì, la storia di chi sui. Si, la storia di chi?